Il 20 gennaio carissimi, fedelissimi, amatissimi, fantastici, preziosissimi ascoltatori il nostro più cordiale buonasera vi giunge dal tempio radiofonico di via Tiburtina Buon pomeriggio a Cif Ciferiello, buon pomeriggio a Checco D'Ocasano Ciao ciao Allora, abbastanza veloci perché il tempo stringe e di cose ne abbiamo tante da dire, è notte fonda, è notte fonda noi siamo svegli della speranza che dopo la notte arrivi l'alba ma è una speranza, non è più una certezza perché per parlare di questo ignobile scempio che verrà credo, no? così scritto, anzi vergato a mano nel libro della storia giallorossa, io non so da dove iniziare se iniziamo dalla gara o dalla farsa da circo alla quale abbiamo assistito tutti i basiti attoniti a fine partita seguiamo la cronologia degli eventi perché forse è la cosa più indicativa perché anche questa uscita di scena è stata un incubo, una caporetto per come si è maturata, un film dell'errore anzi un film dell'orrore, no dell'errore perché è tutto stato farzesco, tutto è stato surreale non si può, mentre si analizza la gara, non pensare a quello che poi è successo susseguentemente perché incide come perché, ripeto, ieri sera non solo abbiamo macchiato la nostra immagine sportiva ma abbiamo struncato, secondo me, quella del club in maniera quasi definitiva, in maniera grottesca in maniera ridicole, in maniera kafchiana insomma, utilizzate voi un termine per sottolineare l'operato dei nostri calciatori insieme al loro tecnico in mezzo al campo e dei nostri dirigenti o presunti dali insomma, un disastro di proporzioni bibliche soprattutto dal punto di vista dell'immagine che è stata cancellata, no calpestata, cancellata una catastrofe ragazzi cose mai viste da teatro dell'assurdo da teatro dell'assurdo stiamo lì a piangerci, no addosso alle carci le ferite per quella improvvida uscita di Paolo Lopez che prenda calci in faccia gli avversari e subito dopo arriva questa notizia ancora più nefasta, no? colpo di scena di un imbarazzato bordocampista che ci mette al corrente che sarà inutile la visione degli ultimi minuti non mi era mai successo in vita mia perché tanto già era stato scritto il risultato, credo, caso unico nella storia del calcio e per questo inevitabilmente qualcuno deve pagare perché questa è una sconfitta nella sconfitta non ne posso più uno stilicidio da qualche giorno a questa parte perché poi per essere onesti lo stilicidio è cominciato al netto poi delle sconfitte, no? rovinose per le quali ci siamo lamentati però lo stilicidio vero e proprio è iniziato cinque giorni fa in cinque giorni la Roma le famose cinque giornate di Roma anzi della S Roma la Roma è riuscita a gettare al cesso una delle ortiche quanto di buono se qualcuno riteneva prima io sì quanto di buono effettuato nella prima parte della stagione e in questa circostanza credo che si sia toccato il fondo ecco forse il primato l'abbiamo raggiunto adesso sarà difficile raschiare il fondo del barile perché abbiamo raschiato anche quello calpestando tutto il nome la dignità e come detto la cosa più importante l'immagine alla quale tengono in maniera quasi prioritaria soprattutto noi proprietari Stars and Stripes perché vorrebbero veicolarne il marchio in tutto il pianeta ne hanno parlato in tutta Europa su tutti i giornali sportivi ci hanno preso letteralmente per il culo in tutto il mondo per colpa di alcuni direttanti allo sbaraglio che se fossi stato io il proprietario già avrei cacciato a tal proposito senza voler puntare l'indice contro i Friedkin perché nei confronti degli stessi siamo ispirati quantomeno io parlo a livello strettamente personale da simpatia per quanto fatto ad appannaggio dei nostri colori e anche perché insomma essendo gli ultimi arrivati credo che sia del tutto fisiologico riconoscergli un'attenuante un'attenuante specifica comincia a diventare a mio avviso caro Presidente inaccettabile questo assurdante silenzio perché è un attimo è da silenzio virtuoso a silenzio colposo parlo del silenzio della società e bisogna sempre avere bisogna sempre trovare il coraggio di parlare anche quando le cose vanno male perché parlando si ha questa volontà e spero che questi abbiano questa volontà si può chiarire perché i silenzi pesano come le pietre e poi le pietre una sull'altra diventano dei muri e i muri caro Presidente dividono creando distanze incolmabili quindi questo è il primo pensiero propositivo che rivolgo alla proprietà ripeto ultima responsabile di quello che sta accadendo perché non credo che dovessero scendere in campo i frittichini per battere una modestissima squadra che si è presentata senza nove titolari al cospetto di un club più blasonato e che ieri avrebbe dovuto avere invece una certa voglia di riscatto invece abbiamo visto ancora in campo delle confetture di sto cazzismo andate a male però lo vado dicendo ormai da tempo evidentemente ci siamo sbagliati sopravvalutando anche la statura calcistica il profilo di alcuni elementi perché sono degli eccellenti mezzi calciatori ai quali è difficile tirare fuori l'orgoglio l'attaccamento lo spirito d'abnegazione che avrebbe dovuto portarli ad un immediato riscatto questo non è successo perché evidentemente evidentemente oggettivamente stanno vivendo questa loro significativa avventura professionale con assoluto distacco emotivo e se vesti questa maglia questa maglia che è così pesante io non te lo permetto io da semplice difuso che ho l'opportunità anzi la fortuna di poter parlare da dietro un microfono io non te lo consento quindi tutti via appedate nelle terga perché ieri ripeto avete fatto veramente qualcosa di gravissimo vilipendio alla bandiera giallorossa ancora un piccolissimo sforzo e abbiamo raggiunto il consueto obiettivo stagionale delle ultime stagioni ovvero il nulla cosmico mi spiace per voi quest'anno sarà difficile anticipare le vacanze visto quello che sta accadendo e questo ripeto non si può concedere non si può concedere perché noi non stiamo qui a fare gli aduratori ruffiani fiancheggiatori della proprietà della dirigenza dei calciatori perché siamo stati toccati perché siamo stati feriti perché non abbiamo digerito quello che ieri ripeto ha esposto al pubblico ludibrio la mia Roma i miei colori la mia bandiera questo non si può giustificare in nessuna maniera ragazzi non si possono vedere delle larve dissenteriche che ridono dopo una munizione a proposito apro e chiudo parentesi a Gianluca Mancini ma chi sei o meglio ma chi cazzo credi di essere questa maglia la mia maglia l'hanno vestita campioni assoluti come Vierkut come Samu me ne vengono in monto alcuni come Collovati come Burdis come Marchinhos aiutami di un Max S one campioni straordinari un signore che mette in difficoltà i propri compagni di squadra che ci lascia in inferiorità numerica e che si consente il sorrisino il sorrisino va eliminato quando si gioca con la bava alla bocca quando si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo signor Mancini deve essere messo adesso a mio avviso come punizione esemplare ai margini della rosa per quanto fatto Paolo Lopez fa un errore grossolano ripeto da Circo Medrano stavo ancora a ride ma ridevo in quel momento perché speravo veramente che si potesse ribaltare il risultato ma ridevo come uno scemo quella è un'uscita da pippa se squipedale poi è il Trato Fuzzaro ovviamente poi è il Trato Fuzzaro pure lì io sono un amico di Bruno Giordano che non ha nessuna responsabilità ma io dico mamma Rai il cui cano ne lo paghiamo tutti quanti Bruno a commento tecnico più scede in studio mancava solamente Paolino Di Cagno come bordocampista poi avremo composto un trio straordinario ma quello non può giustificare ovviamente il nostro malumore noi abbiamo cementato un patto con i nostri ascoltatori lo dico magari per gli ultimi avventori che ci hanno conosciuto solamente quest'anno qui sulle frequenze di rete sport non facciamo sconti a nessuno tantomeno regaliamo critiche gratuite a nessuno l'onestà intellettuale non è mai negoziabile all'interno di questo format e come non si può dire che in cinque giorni sono cambiate le prospettive un suicidio sportivo un suicidio d'immagine quanto accaduto ieri sera neanche in parocchia neanche all'oratorio una forma di dilettantismo che dovrebbe immediatamente portare i proprietari ad allontanare alcune figure che sono in questo momento improbabili ecco il termine il primo termine che mi viene in mente figure professionali improbabili che in cinque giorni tornando ovviamente al campo in cinque giorni anzi in cinque giorni sono stati emessi due verdetti il fatto è che non si può sognare ricorderai quando sostenevo che nessuno voleva vincere niente però avevamo messo nel mirino un campionato di vertice no? se avessimo battuto la Lazio anche sulla scorta di quello che oggi ha fatto l'Atalanta-Bergamo ricordiamo anche la Real Atalanta scusate l'Udine se non sbaglio si hanno pareggiato non solo è stato rimesso nel cassetto questo proposito di veleggiare comunque sia a gonfie vele e stare lì e regalare un'emozione ai propri sostenitori ma è sfumato anche l'unico obiettivo che a sentire veramente tutti era quello che realisticamente più alla portata della squadra giallorossa e quindi si può cominciare a parlare di fallimento o parziale fallimento per quanto attiene i mancati conseguimenti degli obiettivi che c'eramo prefissati altra cosa esiste un decalogo delle regole nella S Roma se sì tutti a casa Manolo Zuberia che cazzo fa nella Roma il dirigente Manolo Zuberia cosa fa nella Roma non mi chiede perché io non so rispondere il signor Gombar che sappiamo tutti sta lì perché il papà era dirigente della Roma e questa è la recidiva quindi è la seconda circostanza a distanza di 4 mesi che credo lo inchiodo al palo come un dilettante sarebbe folcloristico se rimarrà lì ad occupare il suo ruolo allora ragazzi io dovrò alzare il tiro e puntare decisamente l'indice contro chi contro la governance contro chi ripeto evidentemente si compiace dell'operato di chi non merita di stare alla Roma in questo momento non merita questo al netto delle principali responsabilità che ricadono sempre sui calciatori sul tecnico ragazzi tanto ormai io penso che sia fuori Fonseca cioè è inutile anche parlarne cioè a prescindere dal fatto che possa proseguire o meno questa stagione re o colpevole responsabile fate vuoi in che misura mi interessa il giusto responsabile comunque sia ieri perché ha fornito forse l'aspetto più l'aspetto più dilettante no? della sua immagine professionale quando è stato richiamato a bordo campo dallo stesso capitano che appunto sottolineava che quello che stava accadendo non si poteva fare anche lì insomma penso che il mister stesso abbia calpestato la sua immagine a mi interessa il giusto se per il bene della Roma si crede che in questo momento trovando un caprio espiatorio le cose possano tornare a viaggiare come tutti ci auguriamo allora venga anche la sostituzione di Fonseca perché a me interessa il giusto però ripeto se Borca Maiorano non si mangia quattro golle se Paolo Lopez non fa quell'uscita da Circo Medrano e anche il 15 contro 11 probabilmente se il fuoriclasse Gianluca Mancini noto metrosexual perché ci tiene molto al proprio look perché avete visto no? con quelle sopracciglie perfette ad ala di Gabbiano non fa il sorrisino del cazzo e si fa espellere mettendo in difficoltà i propri compagni forse forse questa partita si può anche raddrizzare però dal momento che si chiama responsabile tecnico è anche giusto che si assuma le sue responsabilità quindi va fatto fuori Fonseca arriverà l'ennesimo allenatore ma non vi aspettate Allegri ecco questo possiamo già dirlo credo che se ci sarà qualcuno che occuperà il posto di Fonseca probabilmente sarà un allenatore che ripeto io non credo al traghettatore verrà scelto per standard qualitativi secondo me simili ai suoi predecessori quindi non vi aspettate Allegri se dovesse arrivare Allegri sarebbe comunque sia una sorpresa perché stiamo parlando di un top coach guarda oggi sono smarrito ho dedicato pochissimo a questo incipit perché avrei dovuto insultarli e basta perché solamente gli insulti si meritano questi manichini viziati perché ripeto io non penso che anche la peggior Roma o la Roma B non abbia una cifra tecnica sufficiente per eliminare lo Spezia c'erano più titolari nella Roma che nello Spezia quale Roma B ragazzi tutti titolari sono entrati anche parecchi dopo siccome per loro evidentemente questo passaggio professionale della loro carriera non è così importante io spero che vadano veramente tutti via vengano cacciati via appedate nel culo non nelle terga in modo tale che si possa resettare e ricominciare da capo questa mancanza di rispetto questa mancanza di rispetto non la dobbiamo tollerare non la possiamo digerire non la possiamo giustificare il primo che oggi chiama mi dice che la Roma non si discute perché si ama lo mando a fanculo io la amo come te amico mio se a te piace pronunciare questa frase ad effetto retorica priva di alcuna cognizione logica fallo ma rispetta anche il dolore altrui che co ma no io non la dobbiamo Grazie a tutti.